Vediamo, vediamo in questo video, vediamo un rituale contro i blocchi e per la positività. Prima di affrontare il tema, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Se vuoi puoi fare una donazione al canale, se il video ti piace, per sotto il video fare una donazione. Se vuoi puoi abbonarti al canale, abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonata, attività, tastina iscriviti e poi selezioni l'abbonamento che preferisci. E veniamo, veniamo al tema, vediamo quali sono i rituali, un rituale contro i blocchi e per la positività. Allora, vediamo quindi questo rituale che ha la funzione di sciogliere i blocchi e attirare positività nella vostra vita. Questo rituale potete farlo tranquillamente da soli ed è un rituale molto positivo, molto potente per attrarre positività e attrarre, diciamo, ed attrarre, possiamo dire, situazioni positive nella nostra vita. Allora, l'occorrente è della salvia, uno spillo, un cero bianco grande, una candela stilo nera e una penna. Allora, come si svolge il rituale? Per prima cosa dovete purificare tutta la stanza dove intendete operare, diciamo, lasciando una finestra aperta. Oppure potete fare questo rituale all'esterno, all'aria aperta, diciamo, e sarebbe anche molto meglio fatto, ad esempio, sul balcone o all'esterno, in un giardino, insomma, dove volete. Però, se volete farli in casa, dovete lasciare la finestra aperta, almeno per un bel po', per purificare completamente la stanza con aria nuova. Almeno un'ora la finestra è completamente aperta. Poi, fatto questo, quello che dovete fare è accendere l'incenso alla salvia. Quindi accendete l'incenso alla salvia, in modo tale da eliminare le tensioli negative, le energie negative presenti eventualmente. Quindi la salvia, come incenso, è proprio questa caratteristica, questa funzione, diciamo, energetica, sottile, di eliminare le negatività. Fatto questo, prendete il cero bianco e lo spillo e dovete incidere sul cero le parole luce e protezione. Fatto questo, serve un altro ingrediente che ho dimenticato di citare, che è l'olio d'oliva. Fatto questo, dovete vestire, diciamo, la vostra candela con olio d'oliva. L'oliva è un simbolo di pace, l'olio d'oliva, quindi trasmette, diciamo, la pace. In questo passaggio visualizzate una luce bianca che purifica e pervade, diciamo, vi pervade completamente, ma pervade anche completamente le persone che amate, che volete proteggere. E pensate e mettete, diciamo, dei sentimenti d'amore verso voi stessi, se lo fate verso voi stessi, o anche verso le persone che volete proteggere, sentimenti di amore e di pace. Prendetevi un po' di tempo per meditare, diciamo, su questi pensieri positivi, questi pensieri di armonia, questi pensieri di pace e lasciate poi andare, diciamo. A questo punto, dopo aver meditato su questi pensieri di pace, di armonia, rilassatevi, prendetevi un po' di tempo e adesso pensate a ciò che crea un blocco in voi o nella persona, diciamo, che volete, quella che volete, diciamo, aiutare. Pensate a tutto ciò, tutte le cose che vi creano dei blocchi e annotate tutti questi blocchi, queste paure, questi timori, queste preoccupazioni, insomma. Annotatele con la penna sul foglietto. Adesso quello che dovete fare è prendere la candela stilo nero, di stilo nera, di colore nero, e incidete con lo spillo paura, blocco, negatività. Adesso ungetela con l'olio, partendo dal basso verso l'alto e caricate tutti i pensieri nella candela, tutti i pensieri negativi che avete nella candela, perché la candela dovrà assorbire, diciamo, tutte le negatività, tutte le paure, tutto ciò che crea ostacoli, che crea ritardi. E questo è importante. Adesso, diciamo, avrete tutto su un tavolo, un tavolo da lavoro, ovviamente, che deve essere di un materiale ignifugo, che non possa bruciare. Diciamo, pure mettete sotto dei piatti di metallo, perché le candele poi possono gocciolare, appunto. E posizionatevi voi con lo sguardo rivolto a sud. Quindi la vostra direzione deve essere sud, con lo sguardo rivolto verso sud. Prendete la candela nera, accendete la candela nera, e una volta che avete acceso la candela, al fuoco della candela, bruciate il foglietto dove avete scritto i fattori di blocco, i fattori che creano disagio. E mentre questo foglio brucia, immaginate che tutte le paure, tutte le negatività, si dissolvano dentro di voi. Ognuno può scegliere il modo che preferisce, però può visualizzare queste negatività come una massa nera che si scioglie, che si distrugge. Insomma, ognuno sceglierà nuvole nere che se ne vanno, fumo nero che se ne va via. Insomma, ognuno può scegliere, diciamo, l'immagine che preferisce. È qualcosa di nero, di negativo, che si scioglie e se ne va quando viene bruciato, purificato al fuoco della candela. E adesso recitate la formula. Tutti gli ostacoli sul mio sentiero ora spariscono. Fra me e il mio benessere non si metterà di mezzo niente e nessuno. Proclamo ora il sentiero pulito e purificato così che tutta l'energia negativa sparisca e ciò che desidero arrivi facilmente, beneficiando tutti senza danneggiare alcuno. Questa è la mia volontà e così sia. Una volta che, diciamo, avete che il foglietto è ridotto in cenere, buttate le cenere, spargete le ceneri al vento e dopodiché accendete il cero bianco e immaginate una luce bianca che pervada completamente voi, voi e la persona per la quale avete effettuato il rituale e visualizzate, diciamo, questa luce restando con gli occhi chiusi, concentrati su questa luce per alcuni minuti. Poi lasciate finire entrambe le candele, sia la candela bianca sia la candela nera e buttate tutto. Una volta che è finito, buttate tutto. E questo è il rituale. Potete farlo tranquillamente. È un rituale molto, molto utile per eliminare i blocchi e per eliminare le negatività. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Se vuoi, puoi fare una donazione al canale se il video ti è piaciuto e ti puoi anche abbonare al canale. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati vicino al tastino iscriviti e poi selezioni l'abbonamento che preferisci. Per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo. Ciao!